benvenuti su aquascaping lab come molti di voi appassionati iscritti già sapranno il 18 e 19 giugno a rimini italia si terrà una delle fiere più importanti a livello europeo per quanto riguarda il petto l'animale da compagnia saranno presenti animali esotici animali da compagnia e soprattutto un ampio spazio sarà dedicato all'acquareologia all'interno del grande pallione dedicato all'acquaristica saranno presenti produttori allevatori e negozianti ditte aziende del mondo dell'acquariologia seminari e contest di vario tipo e gruppi social e associazioni italiane inerenti sempre all'argomento acquariologia io e tommaso saremo presenti nel reparto dell'acquariologia con un nostro stand e insieme a voi se ci venite a trovare allestiremo un acquario in stile naturale proprio per aiutarvi con qualche consiglio in più ovviamente se siete presenti potete intervenire ci fa molto piacere come sempre per chi non potesse essere presente vi ricordiamo che dopo l'evento verranno pubblicati video i video inerenti alla fiera ti ricordo che hai due modi per partecipare a questo evento il primo ovviamente presentarsi in biglietteria venirci a cercare all'interno dello stand il secondo poi prenotare e pagare i tuoi biglietti online all'indirizzo www.petsitaly.it per chi non potesse intervenire ma fosse curioso riguardo ai contest ai nuovi prodotti e a tutto quello che succede in questa meravigliosa manifestazione iscriviti al nostro canale perché ci saranno ovviamente i video inerenti alla fiera